Siamo in diretta da Cascia con Luigi Grassi, Gigi, quarto giorno di ritiro, stiamo vedendo il lavoro molto intenso, come sta procedendo? Beh, come tutti i ritiri, i primi giorni sempre molto intenso, ragazzi nuovi, dai nuovi del Miste, lavoriamo per mettere nelle gambe quello che ci serve durante la stazione. Quest'anno Pedrone sta provando un nuovo modulo, 4-3-1-2, cosa cambia per te in particolare nel ruolo di trequartista, tra nuovi due esterni, quest'anno due punte da servire? Ma è chiaro che col trequartista, con due punte davanti così, la linea centrale si deve occupare delle due punte, ma il trequartista si riesce a muoversi bene, c'è un po' più di spazio per la ciocata. Come ti stai trovando? Ci sono nuovi elementi, molti giovani, come sta procedendo il lavoro? Bene, bene, ti ho detto prima, stiamo correndo, stiamo andando a fare ogni partita in una intensa, e stiamo trovando la felicità giusta con nuovi compagni, ma in questo momento c'è da mettere muscoli nelle gambe. State sempre con un orecchio attento per vedere se arriva la notizia da Roma, la notizia dei riferimenti di Teramo, ne parlate anche nello spogliatoio di questa possibilità? Ma è chiaro che tanto il primo pensiero è il campo, poi le notizie che vengono, speriamo sempre che vengano a nostro favore, è chiaro che se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. Grazie. 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 Grazie.